bisogna interagire muoversi nella camera da letto si allora com'è che si camminava come si correva ma faccio andiamo prima qua però qua secondo me cadiamo giù io non mi fido 8 vado io non mi far cadere quindi se salto va via e si 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 dovrò fare qualcosa io da questa parte guardo qualcosa c'è è un cazzo a tool 5 si è aperto si è più difficile però che cazzo è qua ma dai no e come faccio e non ci si può arrampicare aspetta torna indietro per qua si va ancora avanti aspetta fermati fermati ah vedi che non va giù aspetta ah guarda ok anche il verde no c'è caduto cazzo come ho fatto a cadere e no 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 a tempo cioè prima il giallo poi il verde poi il blu ok ok allora dobbiamo correre però quindi devo andare sul 5 sul 5 poi quando sono sul giallo sul cubo poi vai 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 intanto vai sul cubo ok quello rimane su perfetto figa adesso quale cazzo tirare giù il giallo no perché vado sul giallo ok se mica sul giallo ora poi andare sul giallo vado sul verde ok ok perfetto bravo bravo ragazzo sei di là ok ma qua come cazzo faccio andare tu c'hai modo di andare più avanti no provo a rischiacciare i 5 no no non fai niente ma non vorrei dover no sono mi sono ammazzato sono il 4 credo e il 4 dove cazzo sta il 4 aspetta vado io sul 4 ok vai avanti ah qua qua perfetto ok vai di 6 ok qua c'è una bandiera super mario vabbè andiamo nella cosa del topo qua cosa cazzo è sto buco lo vedo male no dai qua secondo me bisogna staccare sti cosi ok girano ah è uguale al pezzo del ecco io sono giocato è ok è un po' più difficile 1 2 3 niente non mi aspettavo no cazzo quasi 1 2 3 1 aiuta cazzo non è non è non è prettamente facile no no cazzo all'ultimo che vita di merda ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta mo abbiamo le bestie no qua si sale aia ah cazzo aspetta devo tirare su le bestie guarda ok vado su io vai 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 di là vediamo cosa c'è di là tirami su il cane il cane il cane il cane non ce l'ho il cane dai come non ce l'hai il cane no non ce l'hai il cane ho il ratto ok ok rifai il maiale rifai il maiale ok ratto le ho il cavallo che cazzo che guardo io che faccio prima e adesso no 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 eh vedi eh l'urto rifai rifai allora ratto aspetta ora ti devo alzare io allora c'è la rana vediamo se riesco oh drizzati figa figa non mi girai la visuale ostia questo no non vedo tu stai dritto che io guardo la tua visuale che cosa grazie ho ok ah 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 ok ce mojo Vella Se sei pronto, stiamo avvicinando l'abacus Ah sì, l'abacus'è grande! L'abbiamo in un'escalante! L'abbiamo in un'escalante! Siamo in un'escalante! Siamo in un'escalante! È una rosa di un'estima! Come? Abbiamo bisogno di sottopoli Cosa cazzo è? Dov'è lo 0? Ah no dobbiamo fare 6 5 più 1 uguale 6 5 più 3 uguale 8 5 più 3 Ignorante 17 Che cazzo è? 1 7 Cosa cazzo fa? 8 6 No Oh cristo 4 più 1 Ah sì è vero stai lì No Well this is embarrassing 9 più 5 giusto? Sì Cosa fai? Cos'è? Non lo so Te su cosa sei? Sei su 9 Dobbiamo fare 8 E dimmelo dove vai Su che cazzo numero vai Non lo vedo Ah io sto sempre su 5 Non mi muovo 9 più 7 giusto? No Fermo sto cazzo di counter Che mi viene mai Non possiamo 8 8 16 Non ci sono 2 8 Ce n'è uno solo Scusa 17 Allora abbiamo un cino Cosa dobbiamo fare? 9 E 8 E 8 Che panico 9 4 più 5 Ok 12 7 più 5 Che culo Il gioco delle coppie Memoria Oh cazzo Cosa cazzo è? La pera La banana La pera La pera La pera La pera è quella La ciliegia Niente Ciliegia Zucchina Banana No arancia Questa qua la banana Vai lì arancia Vai Allora Banana Banana E arancia Arancia Ok Perfetto Dobbiamo unire i punti Dal 1 al 2 Dove cazzo è l'1? Ma stai andando te o vado io? Eh tutte e due E dove vai? Dove vai a destra Devi andare in giù Ah il 3 Dobbiamo fare Ma l'1 Non l'abbiamo ancora fatto Ma l'1 Siamo partiti da l'1 Ah ok E perché non va In gira da qua? E perché dobbiamo farlo assieme Ah 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 Allora il 10 Ecco Non abbiamo toccato il 10 Allora li facciamo 1 2 3 Bro ma ti sono sposti Con il cazzo di joypad Ah io sono Tengo nella direzione Cazzo devo fare Dov'è il 7? Sono fuori di te Non lo vedevo col culone là Niente niente Figa Abbiamo fatto un milione di punti Bro non si sposta Se non va Eh io sono in giù Sto tenendo in giù Figa guarda che roba Viga non si sposta 12 19 20 21 22 23 24 25 26 Ah minchia fatto Figa mi si è spaccato Allo su del collo Ah che roba Ma questo Che gioco è La voletta Da muovere Farò andare la pallina Attraverso il labirinto Non mi diciamo che abbiamo Dove ci sbagliare con ogni Toglio che ha Forse dobbiamo fare Forse dobbiamo fare Forse dobbiamo fare La verità e gambe All'essere sono divertente devo invertirci e quindi? e dobbiamo andare dall'altra parte fermo, 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 fermo ok, su ok, scendi piano, scendi piano resali nooo, cazzo che merda e come si toglie la palla da qua? devi aspettare che case ah ok allora, di qui, su vieni proprio in giù appena appena, facciamolo andare piano tornare su, tornare su, ok fino di qua non troppo forte, però mi sa che ok, fatta bella dopo dopo Giambian, ciao dopo questo è più complicato addio no, al centro al centro aspetta un attimo ma va su perché va su che siamo in mezzo eh, perché probabilmente non sarà bilanciato vedi che comunque in diagonale buttano in diagonale verso di me ok ok, bisogna te uno deve stare a fare il controbilanciamento ma dai che merda vieni fuori di lì eh, no dobbiamo richiamare la palla no, non lo fa da solo scusa eh, no doveva andare dentro doveva andare, vedi ok, allora centro piano piano ci dobbiamo muovere appena appena sul baricentro ok, vabbè qua possiamo anche farlo andare giù aspetta un po' più giù aspetta un po' più giù se no entro subito di là ok, vai a destra credo che solo uno debba andare a destra l'altro deve tenere il centro basta, basta torno in mezzo ok mica è fatica no, no non è ancora al centro eh ok ok è andata tutti e due bisogna andare su no che cazzo è sto topo che cazzo è sto topo il topo adesso mangierà il formaggio vedi vabbè è una pallina di formaggio vabbè vabbè avicare vabbè attenzione 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 all'ultimo attenzione all'ultimo vabbè vabbè aspett ok fatta l'incontrario? no uguale è uguale ah il verde ok se morlo io vediamo cosa succede torna indietro ok una volta che siamo qua siamo morti no guarda qua e no c'era il muro c'era il muro da saltare ok ma bisogna essere un pochino più più veloci credo eh sì vai no il mio non lo salto ah c'era il cazzino lì no ma sei andato su? sì ma scusa c'è un da muro a un muro eh sì ho capito ma vedi che non mi fa ah non quello il muro di legno da muro di legno a muro giallo aspetta aspetta oh cristo ok dobbiamo scendere giusto sì ok pull dito c'è un palloncino che si ah bisogna gonfiare sta roba ah ok si salta quindi uno deve dai schiaccio io te salto ma questo questo l'altro ma di quando ci vai fai uno vediamo dove mi butta a quello è ok qui ah incende eh ok sono qua e dopo che sono qua trova l'altro aspetta troviamo l'altro ah guarda che c'è un altro gancio sullo smile che gira ah ok ok ora l'ho visto eh vabbè ma ora prova a farmi saltare da qua no riprova riprova forse devo forse devo allungarmi aspetta ah no devi allora prima devi andare sul gancio di qua e poi devi andare lì e saltare di là perché il gancio di qua faceva girare lo smile ok vai aspetta vai eh no no dall'altra parte no il gancio di qua prima questo il gancio quello con la mano quello di qua ma prima si è saltato di qua no da qua la prima volta si è saltato da qua da qua vai riprova ok adesso sali sull'altro palloncino sull'altro palloncino ma se mollo questo non va giù vai vai sull'altro palloncino eh ok bella ah forse devo andare dall'altra parte aspetta si ok eh si rifiola la stessa cosa prima il verde arriva ok aspetta eh aspetta vai che ora parte niente niente no non ce l'hai fatta va beh rifacciamo ahia dimmi quando sei su sei su ok vado ottimo ok ciao stefano eh ma è bello bello è bello di brutto sto gioco bellissimo proprio sono dei personaggi fatti bene divertente aspetta ok non stai andando sono lo scivolo ah mica nuota anche ok ci ha mangiato questo cos'è ok cosa fa non lo so guarda qua c'è l'altra guarda qua c'è l'altra guarda qua c'è l'altra è ma Ma se anche tu dovrai muovere Ma io non sto muovendo niente E dovrai muovere anche te, credo Aspetta Ci starà un disegno da qualche parte Immagino di sì Ma secondo me questa è una stronzata Sono quelli che conti pure in foto Perché qua si può andare avanti Guarda che mi mangia Guarda che mi mangia Secondo me mi mangia Aspetta No Vabbè niente Questo è il bad ball Mi hanno mangiato Allora Colpisci la palla per ottenere punti Muovi la mazza Iniziamo Guarda Ah ma Ah ok ok Io non posso mandarti la tua Giusto No no devi colpire la tua Più possibile Niente niente Stasera non va Hai vinto Hai vinto Hai vinto Mica mi ha raddoppiato Va bene Andiamo avanti E questo Ah sempre cagate Sono sempre le solite cose Lo spin E hai fatto E fai bene Jonathan I take two Two I take two Ti chiamo Cosa del genere Tieni premuto per decollare Ah dobbiamo Dobbiamo planare sui cosi Vedrai Ok C'è un caduto Ok Ok Girala Dobbiamo bloccare le palline Cos'è che ha fatto? Non ho la più pallida idea Ce ne sarà una Ah guarda che c'è l'altro di là Sì vado io Erano due da fare Ok arrivo Ok arrivo E adesso E adesso Bisogna passare di là Credo No Vuol dire che c'è un altro Ce ne è un'altra Sì Trovata Dove chi era? Guardi qua Palline rosse È il tubo rosso Ah è il tubo rosso No Oh che culo Hai buccato qua? Ah qua ci butta in alto Vuoi vedere? Qua ci butta in alto Credo Ok Sulle palle Dobbiamo andare sulle palline Credo Sì dentro il castello Credo Eh dobbiamo mica rapire l'elefantino Ah mica le banane ci sono No sono caduto Fa culo le banane Dai No Ah anche a voglia Sulle cose Ti fa volare in alto Ok Ti aspetto qua Ah bisogna Che cosa stai facendo Ah girando così Ok Eccolo Il nostro amico Oh cazzo Oh cazzo Questo ce l'avevo da piccolino Sta fare Caleidoscopio Cosa cazzo è Pronto a vomitare Ah ci sono i buchi Eh sì Eh sì Relax Aspetta Aspetta che si costruisca O c'è di andare di là Con il Proviamo Vado io No Vedi C'è qualcos'altro A fare Qua questo affare qua No qua c'è il buco Ma queste qua Vedi che sono collegate Diversamente Ah no Guarda per terra Guarda Vedi che si colorano No ma cambiano Anche se stai fermo Sì ma Probabilmente avranno Un colore da seguire Collegalo Ma cosa collegalo Ah ok Così Allora Aspetta Sto qua Ok Vabbè Hai visto Hai visto No è bellissimo Guarda le malattie È bellissimo il gioco Poi c'ha Ah no Mi chiede Qua si scivola C'ha una Una Retrostoria Che è tanta roba No Ah ancora Si colorano Ste cose Eh mi sa di sì Aspetta Stai di arrivo Stai lì No vai sull'altro No Ok Bisogna fare Ok 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 Ha creato Dovevamo creare Solo i Malato Malatissimo Anche qua Anche qua Allora C'è la Stessa cosa Sì Credo Siamo doppi Oh cazzo Qua si raddoppiano Le cose Ah ti muovi Allora aspetta Io vado qua Ok Ok No devi andare in alto Vai in alto Sinistra O destra Ancora Ancora Prosegui Prosegui dritto Nell'altra parte Vai 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 ancora No 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 vai di là In cima Lì Fermo Ok Sì vabbè Ci vedo un cazzo Ok Adesso Boom era fatta No pensavo come la faccia spara ancora da più in alto Oh cristo No e adesso Io non vedo più niente Non vedo niente Ah l'abbiamo fatto Lo so Uno so fa uno sotto Giro 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 La sinistra Vabbè Di metterlo verso di me Fermo Ok Aspetta che salgo anch'io Aspetta che salgo anch'io Ah no Io se mollo Torna indietro Ma vero Ma su serio No Eh sì Io mollato E ho tornato indietro Vedi Cioè se io mollo questo Quello torna indietro Quindi devo Girarlo Di qua E devi lasciarlo farlo veloce Sì vabbè Ma è impossibile Ma puoi saltare da davanti Eh Ah no aspetta Gira 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 Blu Gira blu Verso di me Boom Fermo Ok Perfetto Ok Vediamo dove va il mio E adesso il giallo No dovrai guardare il giallo Eh ok Vieni Ferma Ferma No torna indietro Torna indietro Un po' indietro Un po' indietro Un po' indietro Ok fermo Aspetta Fermo 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 Ok Ora vado su di uno Quindi mollo? Aspetta un attimo Vediamo cosa fa questo Vengo su anch'io Sì vieni su Sì sì Vieni su anche tu Se si fermano Ste scale Ok Gira Dovemo girare insieme Credo Ok Se il boss qua cos'è Sarà l'allefantino Eh sì Sì L'allefantino Psichedelico Ma che schifo Ma che schifo Hai vomitato veramente Tutta l'argilla Vomitata Ehi fantino Eccolo Sai mi faccio una sigaretta Dovemo liberare il binario Dovemo liberare il binario Ah mi sa che bisogna trovare il modo di alzarla Cosa la sbarra Sì Guarda Dove sei andato Dove sei? Qua qua Ok qua ci sono dei pupazzi Che serviranno a Ah però far alzare le sbarre Dici? Eh sì Eh sì Capotreno Capotreno Capostazione Togli Da qua No Come è facile tornare di alto E non può saltare Ok Metti giù Però non penso che abbia Io cercherò l'altro Qua ci sono dei Ah i camini Se salti sui cammini Ti buttano per aria Ah c'è l'aereo C'è No ti buttano giù Ti buttano Qui c'è una matrioska No Sono dentro una matrioska Aiuto Ah guarda un attimo Guarda un attimo Guarda Allora Sì lo lascio giù Eh no Un cazzo No Mi sono buttato giù Allora Qua c'è Un tizio Con una gru Ah ok 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 Io sono sull'aereo Ma non so cosa ci volevo fare Ho fatto girare il macchinista Aspetta Bisogna portarli qua Bisogna portarli qua No Non va bene Ok Ce ne serve un altro Di quei cose E come hai fatto A portarlo lì Ah aspetta Due li ho trovati qua Arrivo 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 Scioglio il terzo Dov'è il terzo? E' qua Qua dov'è Non so se Dalla stessa parte Vabbè Ah perché questa robaccia? Ah aspetta Allora C'è Sì Credo eh Devo mettilo dall'altra parte Però vediamo se si sposta Uno è quello del lavoro in corso Sì Allora questo è il macchinista Aspetta Ma non serve un cazzo Questa è giusto Questo è giusto Perché non viene via Questo qua Lei faceva il bacio Quando lo metteva giù Mettila giù Vedi? Mettilo lì Allora Porca troia Come è che non si mette giù Oh Cristo Ok forse da togliere questo No No quello non viene via E allora questi due sono sbagliati Se non si vengono via Ah ce ne sono altri in giro Secondo me lei non serve un cazzo Ah sì ce n'è un altro qua Guardalo Trovato Ingrandisci Cosa sto guardando io col binocchio Vabbè qui ce n'è un altro C'è un tipo vestito di viola Che sarà quello che serve per baciare lei Poi ce n'era un altro da qualche altra parte Ho sbaglio Allora Questo è un altro qua Sì Baccia anche lui Aspetta allora Togliamo un macchinista Un macchinista però servirebbe Per far partire il treno Credo Vediamo Vedi Mi ha dato Ok E il macchinista qua dentro Hanno aperto la porta E il macchinista là dentro Vai Perfetto Ok Ok Che bello però Guarda che fa tutto da Dio E ci prende una strada Nel castello Svegliare il dinosauro Vediamo Allora qua sicuramente si può manovrare Tu prendi quello rosso sulla Guarda Ah qua Guarda E come ci salgo Ah da te Aspetta stai lì Ah l'hai tirato giù Sì sì E poi lo mollo Poi lo mollo E tu sale Vado Lascio Sì sì Non so come si pilota Però sì Ah Ah Che bello Ah però no Aspetta Ok Rifaccio A Prendi quello Davanti a te Ah ok Vero Passa Dai Aiuta Dovrò fare anche questo Credo C'è quello Cosa tira via Quello Quello lo alza No Quello dopo allora Dai prova a sbattere Ok Aspetta Bella Ok Passa l'altro Eh no 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 Devi passare l'altro Quello avanti Eh ma non posso passarlo Non c'è il segnale Aspetta su Ah l'ho girato Eh l'ho girato prima Era da fare dopo Quello Portami indietro Aspetta Sono sceso Dal macchinario Allora Abbassa quello di là Ok Ok Adesso lo giro Vai Passa Eh però Poi non possiamo Ah ok Poi c'è un altro Sbatti lì avanti Ok Una jacket Qui Tirami su Perfetto E questo? Lì non si può sbattere no? No No Eh bellissimo Ragazzi è bellissimo Prova a tirarmi giù Aspetta un attimo Prova a dargli un colpo Vediamo cosa succede Lì avanti Ok Bella Torna indietro Vai Vai sopra che ti tiro giù Ok torna ti tiro giù Ok torna ti tiro giù No questo lo posso portare qua e basta Ok allora Eh la maniglia è dalla parte di qua No aspetta ferma Torna indietro un attimo Fermati Mi ha mangiato Ok perfetto Torna su Eh però poi non possiamo Spostare l'altro avanti Eh no C'è un modo di girarlo Eh sì Solo ficchiando là Ok Eh però se ficchio qua Poi non Mi puoi portare avanti E se io faccio così Lo sposto qua Vediamo No Ma ti dai la botta Non ti posso portare su Fammi andare a vedere indietro Te stai lì Io vado a vedere indietro Se tirando una botta qua indietro Ah ti Ah no Se però tiro giù qua Torna su quello lì Quindi niente No qua credo che abbiamo fatto Scusa Se tu adesso scendi E gli dai una botta Questo gira Però questo si rigira Dall'altra parte Prova andare giù su qua Che ti porto giù Dai una botta Ok Vediamo eh Proviamo E solo questo Ti dai un'altra botta Tu non puoi saltare Con quell'affare lì No E se scende Non puoi neanche scendere Più o meno Perché io posso scendere Io no Posso solo tirare codate Non c'è qualcos'altro da fare Aspetta Io non posso saltare No no C'è un qualcosa indietro Allora che era Aspetta vai giù 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 Allora non gira alto Guarda indietro Guarda indietro Che io non riesco Vai riprova No no Guarda Dov'è No Allora lì non si gira niente Se faccio così No Si gira solo in avanti Che palle Ascolta Fai così Dai una botta Dai una botta No mi sa che ho detto Una stronzata Proviamo Allora Se tu adesso Dai una botta Questo si gira E non lo puoi più sostare E anche questo si gira E lo puoi sostare Riveda l'altra botta Ma se questi due No Ripinga Pallo No pensavo che si unissero Provo a tenerlo Ah infatti ha ragione Dai una botta Ah A tenerlo qui Ok Bravi Bravi Ragazzi Siete sul pezzo Bravi Bravi Dai Vai 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 L'opterodatilo Ok Non c'ho più il picchiatore Sono a piedi ok quando lo so però dovrei lasciare e tu nel frattempo devi saltare e io devo tirare indietro quell'altro ok ok vai vai ok però non ti vedo più io l'ho aperto sotto sotto e basta fermati allora no aspetta te riprendi l'altro lo verde aspetta ah devi andare giù io te lo devo alzare si sta più in basso non ha tenuto è scivolato e credo che è stata fa così più veloce no e no così muori sulla posta e volevo andare fino a e ma non star su dopo un po si sta e come cazzo si fa allora fammi aspetta un attimo allora io lo alzo e tu comincia a saltare poi salti da sta parte ok aspetta aspetta vai giù te lo dico io lo devo alzare mentre tu salti ok salta ok bravo anche la svegliata è un facilissimo questa non è un'altra cosa personal wow 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 moody dai pirati i cannoni e delle ruote per criceti domina chi si va sulle ruote per i criceti e sarà per girare destra sinistra polipino cracker allora rt come spari con la levetta poi se vai avanti indietro vedi che giri aspetta andate ferma e vuoi provare a me se giri solo te giriamo a sinistra allora con la levetta giri ok perfetto ok capito dobbiamo sparare sto cazzo di roba credo avanti un pelo l'altro destra bella vanti ok ok va bene così spara i fuochi artificio avanti 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 è bellissimo ma c'è la cazza di pirati e carabbi sotto no spara i cosi ok no devi girare bro eh c'è il polipino no spara i cosi ok ma non è facilissimo guidare insieme no spara i cosi c'è aia c'è preso vai 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 avanti avanti sto tornando adesso vado avanti dov'è l'altro già morto no no sai ma no c'è indietro vai vai avanti vai avanti ok aia 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 ai pinguini bisogna tirare giù vai avanti vai avanti no non sono da ammazzare aia 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 non è un'altra parte è working, continuare a sbattare ok venga stage 2 pilota pilota sorella pilota eh non va da nessuna parte siamo fermi in mezzo le 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 la mina della prima prima il tentacolo no le mine vai per la mina per la mina il tentacolo ci fa più male il tentacolo ci fa più male la mina fa un cazzo il primo ci ribalta per forza vabbè ora possiamo farci la mina lui ah possiamo moverci noi qua lo facevo lo stesso però ci possiamo muovere un po' più avanti gira mazza la mina lui trivellano i colpi io ne attacco lui 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 le le sessioni in due non sono prettamente facili da fare no per niente ciao si andiamo comunque gli schemi sono fatti benissimo proprio fatti bene 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 no no sono anche su facebook faccio tutti e due in questo momento che brutta sta bambola io le odio i bagliacci che scatole d'accordo no no a queen's crown so rose made the elephant into a queen yeah i guess so it's her favorite toy oh perfect so now we're killing a queen oh pardon me killing7 no 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 she said chilling yeah chilling with the queen we are really looking forward to to chilling with her right ha 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 vero Molto bello, molto 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 bello save. E scopriare il palloncino là in cima. Allora, se schiacciamo questo... Aspetta, prima bisogna fare il circuito. Ok, no, è giusto per vedere cosa succedeva. Allora, la bomba esce da qua, giusto? Sì, schiacciando il pulsante rosso. Ok, aspetta. Allora, io lo devo spostare, secondo me, questo, vedrai. Ah, prova a farlo da solo, prova a farlo a scendere. Sì, è riuscito da solo. Poi bisogna spostarla. Ah, qui c'è da farlo subito. Ok, così. Ah, e doveva finire. Ah, ha aperto la porta, ha aperto. Guarda tutti questi blocchi e ruoli. E credo è il momento per fare un'azione di hamster. Ed è finita qua. Ah, ok, fai, fai, no, 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 fai esplodere. Fai, fai fare quella cosa, ok, perfetto, bravo. Bellissimo. Adesso dobbiamo andare di là. Eh, credo. No, cazzo, è caduto. E ora? Vuoi farci salire? Come faccio a risalire? Dall'altro carrello. Eh no, devo... Ah, ecco, devo andare da qua. Ok. Ok, ora abbiamo il cannone. Oh, cazzo. Regolati e dimmi quando sparare. Allora, vai. Ah no, non devo prendere i palloni. Non devo prendere, pensavo dover si prendere i palloni, vai. Sparami, sparami. No, più in alto. No, più in alto. Ok, vai. No, cazzo. Vai. Prova così. No, è chiuso. Ma scusi, i palloni esplodono. Perché non posso andare... No, no, devi colpire col pallone lì dentro, mi sa. Ok, però... Allora, aspettiamo che si chiuda e si riapra, perché se no arrivi lì si chiuda. No, troppo basso. No, troppo basso ancora. Vai. Oh. Sì, sì, l'hai esploso, l'hai esploso. Si è aperta la gratta a fianco. No, dove cazzo è la gratta a fianco? È chiusa. Si era aperta. E qua sotto che cazzo c'è? Non è che si deve andare su sti cosi. Ma no, aspetta! Ma non è che devo andare là sopra. Prova ad andare là, nell'altra, che sale là sopra. Prova ad andare là sopra. Prova. No. No. Scusa, se andassi di qua? Il palancano a destra? Cazzo è il palancano a destra? No, l'unica che mi viene in mente è di andare a colpire il coso. Prova a lanciarmi. Paloncino? Sì. Dimmi te quando. Vai, 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 vai. Mica in mezzo. Eh, ho capito, ma le grate ci sono molette. Le grate... Sì, ma non è che di qua si fa qualcosa, no? Eh, no. Vedi che abbiamo... Allora, qui si sono accese due luci. Anche abbiamo scoppiato due palloncini. Manca il terzo. Forse devo fare la carambola, aspetta. Prova. No, è chiuso. No, comunque è chiuso. No, no, ma è lì, lì. Devi andare a prendere quello. Lì passare in mezzo alle grate. In mezzo alle grate, dici? Eh, sì, sì, sì. Vai, prova. Vai, vai. No, non fai a passare in mezzo. Eh, no. Ah, no, aspetta, di qua? No, non ci ho provato a girare. No, ma magari hai ragione, mole. Vai, spara. Ah, sì. Ah, ok, 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 ok. Fai così. Fai così. Fai così, aspetta. Vai. Quasi, qua. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Deve essere in basso il pallone. Allora, te lo dico io, eh. Vai. Ok. Ok, ok. Che cazzo? E torna dentro. Perché cazzo devo torna dentro? No, 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 no. È così, tanto far. Cazzo, ci stavi divertendo. No, sono caduto. Che b***a di merda. Onestamente, sì. Ah, qui c'è una ballerina. Ok, questo si gira e lo fa scendere. Lo fa scendere la ballerina che si deve fare. Sul filo. Vediamo cosa succede. Ah. All right now. Ma vai, 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 ma vero. Ma su, serio. È difficilissimo. Vai, io non tocco niente. Io non tocco niente. Non sto fermo. Sei arrivato in fondo? Sì, credo, sì. Bella. GG. Stai lì? In giù. No, ma la giù la pallina? Ma la giù, che c'è anche io, Ypsilon. Eh, non me la mette giù. E come facciamo? Ah, ok, sì, l'ho messo giù. Io devo andare di là? Eh, buono. Ah, sì, devo andare di là, aspetta. Dai palloncini. Non ci credo. Lui quando sei di là, eh. Aspetta. Allala. Eh no, sei troppo sballato. Vedi che com'è. No, fermati. Fermati. No, io sono più pesanti in te. Vai, vai, che raggiungiamo il limite. No, eh, dobbiamo essere coordinati. Sennò non riesce a lanciarlo. Sì, ma tu i trapezisti dei miei visti. Dai, ok, fermiamoci. Fermati. Eh, dimmi te, avanti e indietro. Avanti e indietro. Niente. Eh, no, dobbiamo partire coordinati. Fare avanti e indietro assieme. Sennò non riusciamo. Allora, partiamo da dietro. Ok. 3, 2, 1, via. Eh, non l'ha presa. No, non l'ha presa. Lancia. E tu la devi lanciare nel buco, credo. Adesso devi venire di qua con i palloncini. Ok. E c'è a portarla di là saltando sui palloncini. Allora, abbiamo fatto. Ora per la slingshot. Cazzo, aiuto tu. Che vita di merda. Ma dai, minchè mi fai civolare giù. Ah, perché adesso non sono esploditi così? Vai, tiriamola. Bolla. Beh, sono fighissime ste cose, ragazzi. Aspetta, vediamo un po' il giro. Ah, siete andati al punto di partenza. Sì, sì. Però adesso ci ha aperto il ponte. Perché prima cazzo era giù. Sì, non. Ah, si è dimenticato di costruirlo. Si viene a ricostruirlo. Sì, è proprio come ho avuto planificato. Sì, il cazzo. Ehi, l'elefante. È lì. Sì, la gate deve essere a vicino. Vieni. Chi sono i cavalli? No. Ah, no, niente. Ok, andiamo. Sì, no, uffa. Ciao, guardia. Wow. Tu e Rose abbiamo fatto tutto questo? Sì, sicuramente abbiamo fatto. Ma non è buono, Cody. Non è buono. E io ti sto seguendo. Allora, bisogna andare là in alto. Guarda di là. Vieni, 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 vieni. Oh, sì. E ha le migliori informazioni. La gate è lì. Non c'è bisogno di essere un po' in. Io sono su un gancio. Ecco, giralo verso di qua. Verso di me. Dove sei tu? Non ti vedo. Ah, giù sei. E più di così non posso tirarlo. Ah, più di così non puoi. No, ci deve essere qualcos'altro da fare. Aspetta, provo a fare il giro. No. Che cazzo? Ma forse potrei prendere la palla da bullying qua, questa roba qua. Arrivo. Allora. Ok, presa. Presa, presa, presa. Aspetta. Allora, giriamo. Gira di qua. No. Sì, io so. No, no, di qua. Bisogna buttare giù questi. Ah, dall'altra parte. Sì, aspetta, però. Se tiriamo giù questo, in teoria dovrebbe fare più macello. Ah, non fa più di così? Ok, vediamo. No, sto caduto, sto caduto. Ok, perfetto. Stai distruggendo tutto. Vieni, vieni, vieni. E adesso bisogna farlo dondolare. In avanti, in dietro, magari. Però mi sa che è troppo basso, sai? Allora, proviamo. Spacca sto castello. Eccoli, i soldati. Oh, 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 wait, 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 we're not here to cause trouble. Yeah, yeah, we're just here to see the elephant. Cavaliere nero. Oh, dare you insult QT, the third queen of the planet. Oh, oh, in short, her majesty. Ah, yes, it's the person of the planet. E beh, ma Lalda. But, can we take us to her? It's kinda urgent. The queen does not grant all these efforts with peasants. Peasants? Oh, 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 back up. Yes, who are you calling the peasants there, buddy? Ok, ho costruito questo castello. Allora, ho fatto anche con il nome Magic Castle quindi se non fosse per me, tu non avessi mai avvicinare! Mi servitora! Mi servitora! Siamo messengers da un paese molto, molto fuori. Siamo con una lettera molto importante per la sua majestà. Passiamo! Oh, beh... Dobbiamo vedere la sua majestà in personale. Perché? Perché? Perché vogliono uccidere la Queen! Cosa? Hai parlato la verità? Ovviamente! Non c'è nulla! Sono Dr. Hakim, libro della verità! Oh, ma... Oh, ma... Mi servitora della sua majestà, la Queen Elefante III del castello di Magic Castle! Perchè, resta di sbagliare! Non ascoltare a lui, ok? È un pollo! Loco! È scopo! Oh, sì? Quindi, perché non ti mostrare la lettera alla sua majestà? Eh? Potremmo lo farò! Ok, quindi la cosa con la lettera è che... È un po' complesso. Ah, ha! Esatto! Perché... Che trozzo! Adesso finiamo in prigione! Eh sì, sì, col cesso colorato, guarda! Oh! 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 Oh, oh! Per noi... Sei non l'ingineer in la famiglia. Hai capito? Cosa stai? Ho construito quello! Si, posso vedere. La lavabia non ha piper. Si? È una castella. La lavabia non vengono al bambino. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Oh, dovrei averlazci ii. Come on, si, si! Non lo so. Dai! Che ha fatto? Stavo guardando l'altra parte. Aspiatato. Te sei il mago. E io il cavaliere. Uff. Senti i gassiati. I fagioli. Il colpo dei fagioli. Uff. 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 Che figo. Ok, allora... Ah! X! Allora, A mi trasporto. Con la B faccio fuoco. Uff. Uff. Andiamo. A, A. A, 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 A. Faj, A, A. Faj, A. Faj, A, A. Faj, A, A. Dai, andiamo. Ah, mi tira tra... Spera, spera, spera. Ok. 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 Ok, ok. Ok. non riesci a scattare lì lì ok dov'è che mi hai aperto attacco congelante vai 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 vedi ok ok di qua ah qua sono le celle ok aspetta 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 devo ammazzare questi aspetta da cazzo è anche la fatality ok vai ok e qua devi fare qualcosa a te io qua non c'ho niente a meno che io posso camminare sopra il fuoco non è che io le posso congelare può essere aspetta no 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 ho sbagliato io però potevo congelare il ponte fai qua dalla mia parte fai il fuoco dalla mia parte e io non posso fare il fuoco io faccio lo scatto e prima come hai fatto a farmi uscire il fuoco no vabbè lì stavo uscendo per i cavoli suoi cioè io posso far così ok tirimi qua tirimi aperto ah ok bello non fa il cazzo ah ah c'è il tempo oh il mago il mago è il tutto cattivo ah se è caduto giù ok c'è la gente dietro non so se lo devo fare io con la davanti o meno ok la gente ancora uno ok eh lì dentro io non posso bravo bravo mio giovane padawan aspetta questo mica mica se la va da sola oh e questi ne ho faccio io ma non si muove quando faccio ah ah minchia pure la trappola ah fatality eh cheù ah 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 ok ok Mienchia Tutto l'ho da me in tue mani No No cazzo Vai avanti Vai avanti E non posso No Arrivo Tanto vieni di qua adesso Ok Ok Mi stiamo spaccato tutti i giocattoli a lei Sì sì Cazzivissimi gilinzoli Questa Ah what is that It looks like a baking store Yes that wants to crush us Run 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 Why didn't buy that creepy toy No Nooo, minchia sono morto per... ho aperto la porta No, sono morto anch'io No, ancora ho fatto questa cosa Eeeh, io come passo? Ah, non lo so Ah, mi ha triturato Dai, che vita di merda Is this the dead act? Brucia, bambola, assassino Beh, non è facilissimo, eh Ah, guarda il Terminator col dito in alto Non gli facciamo niente Zero 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 Ah, c'è da fargli spaccare le catene Ok Ah, ok, ok, ok Io sto di fianco a quello di qua Eh, escono i tipi, eh Ok, manca una catena Questa è la nostra chance Vai, 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 la mano, la mano, la mano L'altra Eeeh, l'altra Che merda Tutte e due insieme? Ok, tutte e due insieme Ok, tutte e due insieme No, non si può scegliere la difficoltà, Jonathan E' fatto benissimo E' fatto benissimo Bello, ma con il cavallero Fica, farei un gioco così, lo sai? Eh, sì, decisamente Perché non ho il tempo E' più che non è un gioco E' più che non è un gioco E' più che non è un gioco E' la mia mamma Sì, sì E' credo che lei E' apprezzata che è in realtà E' stato usato Oh no, ora cosa? Oh, oh, oh Di scacchi Bellissimi Come on, Pant Let's dance Io avevo mi cogito sulla regina Eh, uguale dai, bro Oh, guarda ci sono Ah, i pedoni Cosa fanno i pedoni? Ah, si muovono a seconda Si muovono a seconda Si muovono a seconda della posizione Cavalli No, ma ho fatto fuori il cavallo Eh, esagerati I dati La worde sta Come on, Pant è andata via la cacchiera è andata via la cacchiera è andata via la cacchiera dai che l'abbiamo fatti maledetti bello bello ok ora mettiamo l'elefante come perché non c'è nessuna non c'è nessuna beh dovresti sapere tu lo stai oh sì oh sì mi ricordo qui vedete vedo cosa faccio ci hanno tolto i poteri ci hanno tolto i poteri ci hanno tolto i poteri che ha tolto i poteri certo è veramente molto smart si veramente smart abbiamo proprio frate però si è senza magia vabbè ci sta inquietante il fantino non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ma ecco non c'è nessuno non c'è nessuno ma non c'è nessuno non c'è nessuno uccidiamola bella Carmelo bella 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 no no this is gonna be ugly he skipped shuttle e poi dove scappava che c'è il muro sul soffitto arrivo subito ok ti aspetto non bevo un po' d'acqua ah guarda che cazzo abbiamo fare ciao onyx guarda qua c'è la roba da fare qua in alto bisogna spostarlo e prendere lei ah ok che con quello in mezzo scende quindi si eh bisogna farlo più veloce allora tu stai al centro oh alvin fermati tu stai al centro io guido vai 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 tu vai tu fanno scendere no non ancora era dall'altra parte ciao giornata buonanotte no 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 vedi vedi c'è la luce c'è la luce ok 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 no troppo c'è anticiparla si bisogna anticiparla un attimo intanto fa sempre il solito giro no no fa due giri differenti ok l'aspettiamo qua nell'angolo in teoria vedi vedi che fa un giro più lungo quando è dietro lo shuttle lo faccio scendere ok vai un po' prima ah no la presa bravo bravo adesso la strappiamo vedrai vedrai che la strappiamo in due uh la gamba senti la musica come è distorta che cattivi che siamo povera elefantina indifesa dai maledetta vieni qui mi sento un mostro e ovviamente si sta prendendo connotati horror il gioco adesso scappa ancora nooo sei fizzata tira 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 che gli strappiamo anche l'orecchio dai dai una donna davvero vedi che fosse che un egipcio che sei che è un cazzo tanto non funzionerà me lo sento che su lacrime di tristezza vedi che non piangono? aspetta aspetta ma magari si incazza ok, abbiamo bisogno di andare a lì, a presto, prima di che si parla, qui come on oh mio Dio, guarda, guarda, guarda non si parla, guarda, guarda 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 I lacrime di gioia devono essere Cosa c'è? Cosa c'è? Mai, Mai Leave me alone, it's over I think it's a letter from Rose Listen, dear mom and dad I'm sorry that I did this to you What? I know how to make everything good again All you have to do is I think this is it, this is the answer Go on, how do we funny the spell? All you have to do is That's our letter You're not ready for it the word is letter you must work together You must make the adjust? Your relationship No, you like Thanks very much. You just ripped up our only Take it out of here. Yes I did and your piece you put them together Tu hai la risposta! Oh, tu piccoli bambini! È il momento di sfruttare più profondamente in vostro sangue e colpire 4 pezzi di lettera! Let's go! Ehi, dove stai? Prendi la lettera! Intanto hanno distrutto i studenti da bambini. Oh! Che? Oh! Oh! Questo è abduzione! No, tiens! Dacca, che tiens non fai! Preparate per la raccolta della tua vita! Danna... Tau a la! Bravo! Tu sei tu a te, invece di me! Sei una squadra! No, non siamo una squadra e non abbiamo tempo per questo! Tempo? Buongiorno, maestro! Questo sarà il nostro primo tema! Aha! Now, do you give each other enough time? Ok, you know what? We actually... We don't. Yeah, because... She is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone yourself? Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless? That's ridiculous! You have no sense of time! Aha! Cloning? And no sense of time! Good insights! We're making progress already! Great! Get ready! Hiya! Woo! Oh! 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 Oh, oh! No! Oh, oh! la tua famiglia è Cucuclò! Cosa? Ma... Tu piaci che si cucuclò e ora... puoi! E Codic, con nessun senso di tempo tu potrai controllare il tempo! Oh, guarda questo! Wow! Ha addirittura! Guarda siamo noi due! Buona luck! Ok, adesso io dovrò far tornare sul tempo! Bella Leonardo! Ok, bisogna proseguire! Sono morto, che vita di merda! Vai, pazza! Tu non puoi fermare! Guarda che puoi bloccare il tempo, eh! No, no! Io posso sdoppiarmi e basta! E scusa, come cazzo faccio io? Io posso fare così e tornare al posto di prima Finito! No, no! Ma che cazzo! Aspetta! Ok, devo correre! No, rifacciamo! Tu puoi sdoppiarti! Tu puoi sdoppiarti! Sdoppiarti! Ah, sì! Allora aspetta! Facciamo così! Eh, io devo crearne uno qua! Ok! Però non si muove questa! Non fa niente! No, no! Io se rischiaccio vado al posto del clone! Ok! Ci sarà qualcosa di là? Ok! C'è la proporcite! Ah, ok! Vai su! Vai su sta cosa qua! Aspetta che l'avvicino! Ok, io vado quassù, credo! Sì! Ok! Adesso che siamo qui! Ah! C'è andare di là! Ok! Bene! Ok! Mollo! Ok! Ok! Dobbiamo scendere! No! No! Io sono morto come un disperato! Allora aspetta eh! Devo fare indietriggere il tempo! Ok! Vai vai tu che c'è sopra una roba! Credo! No! Ah! Tieni freguto clone! Me lo dice! E quindi! E? Trova! Mollo! Trova a mollare! Ok! Ok! Ah! Ora ricordo il tempo! Ok! Qui c'è il prossanto! Ok! Sono aperte le porte sotto! Ma dove sono le porte? Scusa! Qua sotto! Credo dai binari! Ma credo di sì! Ah! Qua c'è il gancio! Dove si salta di là? Oh! Oh! Quella ola si sembra così! Eh! Ahahahah! Allora rivolgi! Vediamo cosa succede! Io non mi posso più muovere! Ah! Il gufo! Ok! E poi? No! Il gufo cosa fa? Niente! Mollo! Prova a girarmi in atto! Prova a mollare! Sì! Molla! Con la scheda! Ah! Ok! Rivolgi! Ci sono due di rivolgi il tempo eh! Uno dalla parte di là! Vedi che sale! Eh! Allora! Rivolgi di qua! Per il pistone! Ah! Vai! Vai! Sopra! Il! Il! Vai lì! Fermati! Fermati eh! Ok! Allora! Clone! Ok! Eh! Eh! No! Ho sbagliato! Eh! Tiralo giù! Che non è più lì il mio clone! Eh! Tira su! Allora! Tira su! Clone! Ok! Tira giù! Ok! Secondo... Ok! Vai! Eh! Di qua c'è una porta! Ok! Io mi fermo! Ok! Aperto il binario dei due... Due cose! Sì! 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 Ok! Allora! Se andiamo sul primo... Cucu! Aspetta eh! Vai sul secondo! Ok! Siete fermuti? Non puoi fermare nulla te? No! Non di qua perlomeno! Allora! Non puoi mettere il clone sopra uno di questi! E poi si può stare! Questo non tiene fermo! Vai sull'altro! Magari se lo faccio veloce! Ok! Ok! Vai! Vai su! Ok! Bello! Bello! Eh miglia! E' complicato qua! C'è la campana! Eh! C'è un po' di roba da fare! C'è un po' di roba da fare! C'è un po' di roba da fare! oh 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 wow so cool so pretty but where are the wooden figures what did we lose them already now what i don't know that book say anything about what we do if we lose track of those guys no he was just blabbing on and on about time oh yeah and you agreed with him well it's true notte gianfrey it's a little casino pietro cioè inizierà era facile that's just what it's best to stop it's not my choice what do you mean if i lost my job we lose everything okay but when you're never around you lose us okay look there they are let's follow them aspetta mi che mi sono perso stavo guardando la tua te quando la tiri su io schiaccio qua cosa fa alza di lì devi schiacciare anche dalla mia parte perché su di lì al tempo allora ok aspetta e ganci di là dove portavano quali ganci e quando i ganci volanti indietro magari c'era una sfida vedete di qua tipo qui anche c'è una cosa che vedi ah guarda che torniamo da loro aspetta che mi sono a cappottare ah qua sotto c'è una leva qua c'è un altro ganci e qua c'è una leva se tiro la leva della nuvola cosa succede aspetta che io sono sotto te lo devo ti devo far tornare dietro il tempo io no che cazzo ah si spengono le fiamme vedi vai avanti no qua no e avanti avanti ok e queste non ci servono proviamo a spingere tutte e due no io non posso spingere si vedi che le ha spinta ah ok dovevo solo fare ok perfetto gg e loro dove sono finiti adesso sono in fondo vediamo con i binari si dai ok ah ok devo devo ok devo abbassare il tempo allora salvatore allora aspetta devo andare sulle barche aspetta un attimo vai vai abbassa abbassa eh non ce l'ho di qua almeno non so dove sei andato oltre no no torna indietro torna indietro se abbassiamo il ponte perché devono passare loro ok eh no vedi che c'erano a bloccarli tutte e due ah ok perfetto allora forse devo fare velocemente io ah dai di lì no no te devi stare su blocco quanto farà vai 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 bloccalo ok mandalo giù no sono morto rifacciamo rifacciamo io te li trasporto aspetta te stai lì per bloccare ok io mi sfosto da una parte all'altra ne tiro prima giù uno tanto c'è il tempo ok ok sono passati si perfetto mollo ok allora qua si sono avvassati due ingranaggi vediamo cosa fanno ah fai mezzanotte ah guarda l'orologio ok si allora io controllo questo ok quindi devo andare giù aspetta io vado qua e tu vai sotto a mezza di andare eh no non funziona così scusate ok ok l'ha preso adesso l'ha preso bella bello best no 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 dove si andranno ora come siamo a seguirli Cody stop whining let's find another way I wasn't un'altra strada come on art wow that clock tower is huge is that where we're going? exactly but to get inside you need to ungravel the secrets of the smaller towers uno dos you see here's a thought why don't you just let us in the tall clock tower straight away yeah we need to get back to our real bodies as soon as possible don't stress me time is an illusion there's only now can't you feel it? there's nothing else than now everything happened now no 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 can you feel it? no no you were very annoying right now no no hey look what's that strange fear over there? yeah stop my friends you have to figure out yourself we are not hey Cody I've got an idea maybe we can use those birds i cazzo sono piccioni? si gli uccellini del cucù credo allora vola B e scendi con la madonna che casino stiamo verso quella di sinistra o quella di destra a destra a destra che mi sto ma perché cazzo sono invertiti? perché sono invertiti? a per salire e B per scendere a me sembravano invertiti i comandi comunque sono fatti bene eh per scendere da sto coso? B lascelo fuori ahahahahahahahah poco vado a fare un picciolo va oh cazzo tutto tutto buio da rida scavenero vado highest aspetta ci sarà un perché fare stava beguardo ci sarà qualcosa di qua c'è un'altra strada ci sarà un qualcosa è tipo qua devi far te fai il trasporto ok torna indietro vedere che si riapre ok quando è giù puoi anche rifarlo ok e quindi adesso me la devo cavare io di qui e mi devi dire l'orario ah ok torna indietro vai al puzzle ok il primo è la vespa allora vespa ok uccello uccello gatto gatto per cazzo il gatto ma cane luna giusto e persone credo ma fanno anche qualcos'altro però perché non ha cambiato un cazzo a e le luci forse bisogna essi bisogna accenderle tutte le luci credo comunque l'unica che non si è illuminata è la luna no è la luna si è illuminata ah aspetta hanno dei numeri due quattro cinque è l'orologio ah ok l'orologio uno segna l'uno l'altro segna il due l'altro il quattro le sette le cinque e nove allora uno due l'uccello giusto il tre il gatto e il tre non c'è c'è il quattro fa il gatto il cinque il cane e no il 5 è la luna ok il cane e poi il sole due strane differenti non lo so questa questa scusa non ci ha fatto caso ah non era un torcio era un lucciolo perché esplodono beheheh partito non mi piace alcuni luce oddio si sembra dangerous si esatto penso che possiamo utilizzare utilizzare? a quello che c'è? per ridurre questo ok il tempo questo è il tempo ah c'è andare all'altra torre giusto no secondo me c'è qua una roba qua c'è vedi? eh ma quello credo che sia, eh sono loro quelli lì in mezzo anche queste qua sotto? si quelli in mezzo sono loro ah si si hai ragione ci sarà a fare anche l'orologio a meno che c'è a prendere le lucciole e distruggere l'orologio andiamo prima l'altra torre andiamo allora verde, blu ah no, dobbiamo andare su, ok ora ti aspetto vado avanti, vado avanti come vuoi avanti? no, mi chiedo è caduto come un coglione qua ti faccio il ponte allora devo andare sul blu tu devi cliccarmi il verde poi, eh io sono già sul verde no, i porcatroni sono caduti niente, aspetta un attimino eh no, me lo devi cliccare me lo devi cliccare ah no, vedi che è diventato rozzo? eh, ok ah però aspetta no, aspetta cioè così non è non rimane comunque allora mi devi cliccare, ti ricordi quando c'è un blu davanti, un verde di da te io devo saltare sul blu girati sulla sinistra dove viene il blu? ok, se tu vai sul blu cosa succede? diventa blu l'ultimo ok, quindi io devo andare sul blu adesso poi tu devi cliccarmi il verde ok e quando passa sul blu eh no vedete quando anche l'orologio è sul verde ok poi il rosso quando diventa rosso e io adesso vado sul blu eh no devi eh, l'hai anticipato no, no non l'ho anticipato sei spostato guarda, allora eh no, era giusto era giusto era giusto no, devo farlo un secondo prima che salti perché se no mi non riesco a fare il doppio salto eh no ho fatto andare giù ancora ok aspetta, ho portato indietro il tempo e che è successo ora? ah, devo passare io devo passare io lo devi fermare sui cosi quando ci sono io adesso ok, prima è blu vai ah, blu rosso no ora rosso, rosso e non vai indietro non vado indietro nel tempo cioè io non aspetta se io scendo da qua eh, ho capito ma se io vado su blu e sei su blu ah così torno indietro nel tempo aspetta 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 ora devo andare sul rosso eh cominci a saltare aspetta bella vai 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 ok bella dobbiamo tornare su liberiamo le altre lucciole io bisogno di cambiare l'acqua e pipistrello e farmi un caffè eh è vero, è venuto in paura aspetta, aspetta fai finire sto pezzo beh, non ci sono non ci sono i cosi ah sì vabbò raga arrivo subito un caffèrino veloce una cambiata d'acqua e pipistrello e ci sono un caffèrino e ci sono i caffèrino ma l'acqua e le i in l cond s par Grazie. Grazie a tutti. Vabbè, allora, in teoria bisogna salire sopra qua e... Cazzo andiamo poi, vabbè, intanto saliamo. Prendere le luciole, credo. C'è la vita. C'è la vita al castello, hai visto? Ho la ocula a fare lì. Credo che ci sia. Prendere le luciole con Y, ok. E andare a colpire. No, non lì, ha le torre. Ha, le torre? No, non lì, ha le torre. E' distrutto? Sì, sì. Vedi che adesso si muovono? Sì, sì. Vabbè, ma sono qua, sono, quindi cosa manca? Le leve, credo. Ci sarà da farlo salire, a sua cosa. Non so come. Ah, col tempo, col tempo. Poi qua c'è... Ah, guarda. Ah, ma vado giù, vado. Aspetta. Perchè la roba... Eh, anch'io. Ah, sì, sì, è giusto. E dove vai? C'è da far andare le frecce... Vedi le frecce che si muovono? Ah, sì, sì. Sì, sì. E ma dove? In che posizione? Qui dal centro. Ok. Ok. Ehi, no, no, continuiamo a saltare. Ok, ok. Continuiamo a saltare. Pensavo che si bloccassero. Non mi piace questo suono. Siamo veramente a seguirli? Sì, non ci siamo mai fuori. Ok. Scusate, prima. Oh, è una buona... Vabbè, il libro ci ha fregato un'altra volta. Oh, no. Oh, no. Beh, è questa nuova sta muovendo? Sì. Rai! Non c'è da andare! Beh, beh, fai qualcosa! Cosa? Beh, tu fai qualcosa! Non posso andare a scuovere? Su un muro. Ma quale è un muro? Questo? Non posso farlo. Su sti cosi qua nemmeno? Niente, niente. Non siamo morti. Sì, sì. Ah, quando siamo alla fine dobbiamo saltare? Beh, io ci ho provato, ma non... No, non c'è un cazzo da fare. No, non ci fa saltare nessuno. No. Non ti fa fermare il tempo su quei cosi qua nel muro? No, ti fa... Va, te, crea clone. Eh, ma cosa ci faccio io col clone? Ah, boh. A me non mi fa fare niente. Ah, aspetta, 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 ok. Devo farlo prima, però. Vabbè, dopo vediamo. Ok, era da fare dopo. Ti resisti? Eh, vabbè, adesso abbiamo capito. Ok, ok, ok. Ok, ok. Devo superare il muro col clone. Wow. Vai, molla. Mi pensavo che non avessi fatto. Anche. Mi pensavo che siamo arrivati. Ma abbiamo fatto. Anche in questo modo abbiamo fatto. che mi dice ancora che crea clone oh magari perché lo devi creare adesso ah basta minchia scorrimento non si può neanche correre non si può neanche saltare forse questo è un percorso obbligato perché sei più veloce di me? perché sono più magra hai visto che si aprimono? si è passati a culo hai visto che si aprimono? manca l'avevo visto tutto coordinato di là posso andare di qua? Ah, cazzo, devo fermare il tempo Ok, aspetta No, ho sbagliato Cazzo, ho tornato su Aspetta Allora, ce n'è uno qua in alto E' uno qua adesso No, niente, allora questi sono per un'altra cosa Ok, vai su, salta Ok, ora vai qua Vai, salta Ok Ah, ok, aspetta, tieni Vai Sei arrivata? Sì Ok E poi c'ho questo Uh Aspetta, aspetta Bella Ah no, bisogna lasciarlo giù, no? Sì, sì, lasciarlo giù Ok, giù Eh, è aperta però Riusciamo a entrare No Vedi qua, a me non lo fa più usare Quindi quella deve stare giù E ci sarà qualcos'altro Aspetta, vengo giù Qua posso usare il tempo Ah, aspetta, aspetta, aspetta No, aspetta Ah, vai sotto Mi schiaccia Vai Ah, adesso devo ricrearlo Aspetta, aspetta, vai giù Vai su Ok Ok Possiamo tornare giù E una da mettere qua, quindi Ancora di culo c'è andata Vabbè E adesso dovremmo fare l'altra parte Sì, sì Che però è chiuso, no? Aspetta, è chiuso No, no Si sale Ah, si sale Ah, non l'ho visto Sembra una porta da lontano Vabbè 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 Aspetta, aspetta Eh, guarda La chiave è là in cima Ok, qua giri C'è la piattaforma Vai, vai sulla prima, su No Oh sì Ah, a meno che io adesso devo saltare Mentre tra arrivo oggi in tempo Devo saltare lì Ma su, adesso devi saltare Eh, provo, eh Sì, vai Eh, quasi Quasi Però sì, è così Allora, vado, eh 3, 2, 1 Vado Ok, ora devi saltare Devo saltare di là Eh, ma su quale? Eh, sulla paletta Quella che ho davanti La vedi? Ma ce la fai da là Saltare? Sì Ok Aspetta E adesso? Ah, adesso sopra Fermo? No, no, a sinistra Lì, ok, va lì Bella Ok Vai Aspetta, aspetta No, così è troppo Ok Ok Ah, minchia Di saltare e basta Salta Ok Ok E più di così Mi sa Non posso andare Qua e sull'altra Sono morto Ok Ok, va bene Vai piano Vai piano Piano, 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 piano Ok, vai Ok, vai Ok, ti ha aperto Anche a te Ok Aspetta, aspetta Mi bevo il caffè io Sì, 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 sì No, ti ha sfatto qua Vai, 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 vai Tanto Fare coordinati Cooperazione Importante No, se no, si schiatta male Ok, ora si dovrebbe aprire, no? E dove c'è a girarle? Vieni qua Ah, sì No Fine No, forse Proviamo prima l'altro Perché secondo me c'è un buco Vedi che c'è il buco Ah, ok Per la chiave Allora Qua, qua, prima qua Arrivo Cingo Ok Ok Che la spada chiave Bello, bello, bello Il Taurus Il boss sarà questo Elfie Eh, sa tanto di ball Bellissimo Mica, ma hai fatti bene, ragazzi Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, no, cosa devo fare io con il clone Mi ha già staccato Oh, oh, è lusso Ah, no, devo farmi un clone da un'altra parte Ok Eh, sì Vabbè, adesso ma M'ha staccato, resisti Inche se è forte Devo fare il clone di qua Ok No, mi ha preso anche a me Non lo portare a mia parte Io non mi posso muovere Ah, tanto adesso vi vede rosso Ottimo Ok, doveva rifarlo Dimmi quando hai fatto il clone Fatto, fatto Eh, ora sta in seguito a me Ah, ma non c'è più la piattaforma Ah, no, mi ha preso Minchia Ok No, mi ha fatto Dai, dai, qui quando sono in vita io, va bene Ci sono Ok, vai Vai No, non ci sono No, non c'è più la piattaforma No, non c'è più la piattaforma Vai No, va bene Non c'è più la piattaforma Ah, bisogna farlo schiacciare, credo. Sì, ma secondo me non posso far niente ora. Ok. Che bello. Non sembra neanche un gioco, in che senso? Finalmente! Si è sotto! Questo? E' una difficile. Oh, sono fatta! Sì, però meglio continuare a rinforzare. Sicuro. No, no, la prima, la vedi? Vabbè, è uguale. Alza un po' il tempo, sennò di là non ci arrivo. No, contrario. Più di così non posso fare. Ciao. Che caga. Pensavo non ci fosse il pavimento. No, mi ha schiacciato l'orologio! Devi salire, credo. Sali sull'orologio. Che vita di merda abbiamo schiacciato l'orologio. Oh! Hard work! Oh! Beh, fai, basta stare in mezzo. Che cazzo è sta roba? Eh no! Ah no, non c'era da venire in fondo. C'era fare qualcosa. Bisogna mettere... Appare, forse. Tutti. Come fai? Eh... Ciao Lorenzo. Non è che devi saltare in mezzo? D'una parte all'altra? Ah, sì, guarda, guarda. Continua, 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 continua. Bella. Ciao Lore. E adesso? Eh, vuoi tocca a te vedere cosa ti farò su. Lì c'è un Y, guarda. Questo? Questo cosa fa? Ah, questo apre la via. Ok, e l'Y qui invece? La spingo giù. Te la spingo giù? Provaci. Provaci. Ah, ok, ok. Ah, stari. Stari. Mi porterei indietro. Eh sì, ma... Ok. Adesso mi schiaccia. Adesso c'è la salire qua. E come si fa il salire qua? Ok, vado io. Arrivo. No, vedi, io non riesco. Ah, aspetta. devi farlo prima te e io devo mettere il mio clone di là. Allora, aspetta, vieni qua. Devi stare qua sopra e io devo mettere il mio clone di là. Ok. Vieni qua sopra. Vai. Vai. Vai, li passa al te. GG. Mamma mia, su cagato in mano, peggio degli horror. Eh, si stanno unendo? Si uniscono. Oh, I don't have a good feeling about this. No, cazzo! F***, non l'ho vista, non l'ho vista l'orologio. Devi fermare la lancetta, credo. No, no, non posso, non posso fare niente, bisogna solo evitarla. Eh, la mano, dooooi. E sei... Nooooooo! Volevo salire in mezzo io. Nooo! Che fintente l'orologio! Ah, perché si devono unire insieme di chi si stanno avvicinando. Dai, ma freddo! Bisogna solo resistere. Nooo! 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 Non ci sono. Nooo! Siete morto? Resisti bro, resisti Bella Ci sono due cuori qua No, minchia No, e adesso? Come hai fatto ad andarti lì? C'è l'altra parte, già ti aspetto Eccomi Mamma mia Sono andato insieme No, sono andato giù, sono morto No Minchia Ma guarda che non si attacca di là Guarda che non si attacca di là Ci l'hai fatta? Sì Eh, l'hai fatta, io no Ok Dovrei esserci anch'io Bella Fa che si riuniscono queste due statuie È lunga, ce ne abbiamo quattro così da fare Eh, sì, sono quattro fasi Cos'era? È l'uccellino cocù Credo Cosa Cosa Ci siamo in due adesso non abbiamo più i poteri non credo me lo fa usare l'ombra siamo vicini la parola e sta distruggendo tutto e adesso sono bellissimi lorenzo veramente fatti bene ha ragione proprio belli 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 è andato a speccicarsi ma è che quando cazzo c'è un pino a riunirsi beh siamo all'orologio teoria mi piace di più questa crepe scura guarda ahahahahah che cazzo? oh ah, cazzo oh ah che cazzo ahah si va bene e adesso è scritto scriva questo non mi devo starlo oh mi hai scrivato io mi hai scrivato io mi hai scrivato anche qua Sì, non c'è un po' di più grande Ma l'hai fatto te? No! E adesso? Ah, c'è a distruggere gli orologi! Eh no! Sì sì! Vedi che ne abbiamo già distrutti due? Ah, perché il centro! Ancora uno! Bella! E' entrata l'inferno così! Hai ragione! No! 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 Cosa stai facendo? Sto tornando indietro il tempo! Devi saltare, credo! Eh, ma dove? Qua! Ok, lì! Ah, va! No, non vedo un cazzo! Fermo! Ecco! Non vedo un cazzo! Non è colpa mia! Ci sei? Vai su questo! Fermo! No! Va al rallentatore! Non sono veloce! C'è il tempo, eh! No! E' rallentatore! Non scende normale! Ciao Giabbe! Buonanotte! Allora, rifaccio, eh! Ok! Fermo! No! Fermo lì! No, niente! Rifaccio! Stai buono, eh! Ok, vai! Ok, fermati! Si, ma io non mi muovo! Mi muovo! Fermo! Ok! Arriva su e fermati! No, c'ho qualcosa da fare! Stai buono, muono, muono! Guarda! Lì! Vai! Il tempo va avanti, eh! Da solo! Vai lì! No, aspetta! No, aspetta! Dall'incontrare! No, qua! Qua! Ok! Che è un trauma! No, qua non c'è un... Mi scendi una dall'altra parte! Devi girare! Fermati! Ok, scendi! Ah, ok! Ok! E te? Separati! Non so più! Adesso sono cazzo i tuoi, quindi! Ah, hai distrutto col pendolo l'orologio! Sì! No! Cazzo è caduto! Ok, hai distrutto! Oh, hai distrutto! Ah! 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 Mi sento different! Ah! 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 Abbiamo abbastanza del loro raggio! Ah, un lavoro migliore! Il rapporto di te è ora di Mori. Ti senti? 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 Ok, ok! È così che vuoi andare? Ok, ti senti? Ok! Ok! Che strozzo! Beh, comunque è innegabile che il gioco sia veramente una ferra! Tanta roba! Tanta roba! Bello, bello, bello! Mamma! È funzionante! Ma il gioco è funzionante! Tutta la roba che non funzionava in casa! Insieme! Quello che dovevamo fare dall'inizio! Adesso cade più che la testa si dimentica dei genitori! E poi pesano il cucù, eh! È così leggero! Mio padre ne ha uno è bellissimo! Che era di mio nonno! Che era, stavolta, di suo padre! Numero uno! Il numero uno! Ahahahah! Ma niente! Il più o meno! Il più o meno! Ahahahah! 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 Qual'è una volta come inizio? Quei o più! Ahahahah! Jaactive! aisiaентов! Certo! Ah, ne abbiamo metà testa? Eh, testa in più o viceversa, non mi ricordo qual è Non ci sono, magnetti! Oh, no! Eh, dove è? Eh, perché questo paese sembra così familiar? Oh, aspettate! Eh, conosci la monta? Si, è lì che abbiamo fatto la prima volta di ski insieme! Siamo nella palla di vetro Bellissimo C'è il blu, nella tua parte c'è il blu Allora, il rosso è mio, il tuo è il blu, vedi? Entra, entra, vedi che dall'altra parte c'è il blu Ah, io spingo e ti tiri? Allora, sali Vai, spingi Ah, devo stare giù? Ok, aspetta, vieni qui Devi tirarla, se noi come vengo? Ah, già, già, è vero, è vero Aspetta Questo non funziona, provi Aspetta, vieni qui Ah no, è il contrario allora, aspetta, attaccati te Ok, attaccati Ok, attaccati Aspetta Vai, te la tengo, te la tengo io Vediamo com'è Ok, io adesso la spingo Molla e vieni Ok Ah, ok Ok, vai Ok, vai Decidiamoci, io tiro Eh, te tiri io spingo Eh, te tiri io spingo Eh, che son due Oh, queste cose si sembra differente Ma non ci arriviamo Ah, perché te il rosso sei attratto da blu, io sono blu e sono attratto da rosso Ok Ok Quindi devo andare dall'altra parte, io? Sì, sì Ok Ok Guarda Ok Ok, tu qua devi tirare, credo Eh, io solo per prendere, ok Da sotto No Aspetta, c'è il carrello C'è il carrello, aspetta Dove Devi tirarlo tu, però Ah, ok Non l'ho visto Non l'ho visto Ok, la catapulta Vai, vai su Mollo, eh Ok, ora spingimi quella roba Non, ha spingato Non l'ho avuto Non ti Ok Aspetta Ok Adesso ci deve essere un modo per tirarti da giù a te No Non è qua Forse mi sarei diviso lì prima te Eh no No mi devo arrangiare io Vedi Aspetta aspetta Fai tu salta prima tu Vai Eh ma poi tu non vai più su No 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 vai 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 tu vai No no così non mi basta vado contro un muro Non riesco a salire così Ok così Ok Ok Ah perché te ce l'hai già posizionato Ok Ok Io raggio questa Ok Fodio Ok 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 Oh Oh Ora tu devi trascinare E poi me la devi tenere Ti sei? No No Io non posso attaccarmi al rosso Al blu Eh ma non fa niente Quindi prova Vedi? No no E cosa cazzo devo fare qua? Aspetta No di qua non posso prenderlo No di qua non posso prenderlo niente Sì perché se io faccio così lo tiro indietro O vengo a tratto No vieni a tratto No neanche quello Vedi che non me lo tira? Io lo spingo il blu Ma provi di qua sul rosso non lo respingi scusa il rosso Cosa fai te col rosso? Niente E lo per forza con blu dovresti tenerlo Molla Eh vedi? Ah prova a saltarci A saltare verso il blu e tirarti No Provo io Aspetta un attimo Eh puoi arrivarci Se il ponte non è dritto No infatti Bella Timoti Ehm Eh no 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 Non si può fare niente Cioè io ti devo per forza spingere Questo è sicuro Ma non c'è un cacchio Eh no per forza così E' solo che non Non si attacca al blu Non capisco Aspetta aspetta un attimo No io da qua per forza Che te lo respingi il tuo E io in teoria respingo il mio Tu non riesci ad arrivare là in fondo vero? Troppo lontano Dritto davanti a te No No Sì sì Il gioco è fatto veramente bene Scusa Ah ma qua sotto ci sono altre due cose? Ah no No sicuramente da dove siamo arrivati in teoria Scusa in teoria tu sul blu ti dovresti respingere Cioè dovresti attrarre Giusto? Se tu saldi E come no? Eh no Fingi? Allora prova a tenerti È uguale È uguale Blu con blu si respinge Rosso con rosso si respinge Prova a tenerti attaccato al rosso Spostati di qua Spostati di qua Da qualche parte No vabbè Stando vicino Sto spostando Sto spostando Sto spostando Allora spingi i mobili Ok Aspetta vediamo Io mi metto qua Ok Ok Perfetto Perfetto Ah ok 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 Poi adesso prendi Bello Ok ok Fatto Chi era più semplice Di quello che Eh vabbè Tante volte non è che ci pensi subito le cose Ah È il cabine che ci siamo in È Penso che sei Ah 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 require Che Ha Ah 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 se lui ha visto la babbo natale quindi adesso abbiamo i pattini in teoria abbiamo i pattini e abbiamo i vestiti invernali ci sarà da correre e c'è ghiaccio e c'è ghiaccio sprint figata iscriviti Ahia, ahia che botta ho preso! Ah, alto! Bello! C'erano degli spunti molto carini. C'erano degli spunti molto carini? C'erano degli spunti molto carini! C'erano degli spunti molto carini? Mi spunti molto carini! E' vero? Allora, lo alzo appena appena! Lo tiro! Ok! Vai! Ok! Ok! Lo mollo eh! Molla! Ok! Adesso lo devo usare per salire saltando così! Sì! 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 Non è contro! Devo fare il trampolino! Ok! Sì! 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 Se abbiamo fatto bene! Sì! 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 La madonna! Ok! Gli ho ottenuto prima a sinistra! Va bene! Vai! Questo giusto è veramente una villaggio dorme! Mi sono amicizio e il salto! Sì! 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 Ci sono tre bellissime! E vedi di... E per forza! Non c'è... Non c'è altro! Non c'è altro! Poi sono giù No, ho sbagliato Come cazzo si va di qua? Falle di nere No, ho finito le falle di nere E' bellissimo E' stupendo Rilasciamolo assieme Vediamo se si scontra Vieni qua 3, 2, 1 Via Vai Vediamo se potremmo usare quella crepe Vai No, credo che sia dall'altra parte Ah ok, di qua E poi lo devi girare velocemente Lascialo andare Ah no, non fa un cazzo Ah aspetta No aspetta l'ho spostato Lo spingo io Lo spingo io Devi farlo te a sto giro Vai, ferma Ok Aspetta un attimo E adesso lo devo Tu ti devi arrampicare Io lo devo spingere di là Però aspetta che devo Prima Devo fare così, giusto? Ok Quindi per fare così No te caro Eh ma come faccio a salire? Devi essere veloce Si Vai 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 Bra 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 Salta Nooo cazzo Per un pena Vabbè dai Rifa Allora Al tre eh? Uno Due E tre Mi stavo allontanando troppo dal centro prima Per quello ce l'ho sotto tanto Ah qua devo andare in su Eh là E dove cazzo salto qua? La La Campana in teoria Ma non ci arrivo sopra la campana No cazzo un caduto Un caduto Non ci arrivo sulla campana Devi prova? Rebutta qua Tre, due, uno Via Ah A meno che aspetta Adesso sali sopra E non usarlo subito Stai lì? Ah sì forse lo dì Ok sì Ora zè Vado eh? Sì c'è la piattaforma lì sopra tanto Allora lì Bella E suona la campana E suona la campana Dai Guarda qui c'è l'altalena C'è l'altalena Ti posso spingere Sali sull'altalena Ah 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 Mi ammazzano Ah Bellissimo Dai Via Via Io non posso salirci Oh sì 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 Posso salirci Aspetta Io questo lo posso far volare Ah Hai volato Umore altalenante Trofeo Ah però te mi ciri soltanto Vedi Aspetta sei sull'altalena Sono immune Ah Sei immune Va bene dai Andiamo dall'altra Aspetta Fermo Direi che pigliano il sole Pigliano il sole No Vai su Che figo E come fai No lascialo giù Che ci devo salir da Da Ah no Tiralo giù da qua Dal centro Se no come faccio a salire Ok Lascio Vai E dove vado E dove vado Mi sa che devi andare sopra la montagna No ma non ci arrivavo sopra la montagna Aspetta che ritornano lì Ah Anche di qua ti posso lanciare Ti posso lanciare anche verso... Provo? Verso la campanile? Eh però non ci arrivo vedi No magari devi andare semplicemente sul pontile di là Ma sono su una palla di neve adesso No dico vedi il pontile che c'è là dove c'è il pupazzo Guarda la mia schermata Ah Il dinosauro? Eh perché Ma lì ci vado anche piedi Cioè Si Guarda Di lì Oh Sei qui solo turtle? Cioè allora che cazzo serve sta roba? Niente? Ma niente credo Per giocare così Beh noi andiamo verso... Credo... Ah no c'è qui aspetta aspetta Qua c'è un cannone Per salire lì c'è da salire lì qua Credo Però per salire qui Eh Per salire qua sopra Eh non ci sono calamite Ok Ah sei su? Si C'è un tappeto qua Dove? Ah qua Verde qua sotto Vedi che di là c'è un qualcosa Eh ma il cannone non lo possiamo usare adesso Perché la leva è bloccata E questa corda qua? Sopra di noi? Dal centro? Ah è per la funivia che è bloccata dal ghiaccio Ok E se andiamo a fare prima l'altra campana forse cos'è Cosa cazzo serve? Tiralo tu? Oh Andiamo andiamo a fare sta campana dai E dov'è? Mi sono già perso io E quella dall'altra parte? Ok Ok Chi vede Allora di qua si sale con la... con la pune Di qua si scende Si va chissà dove cazzo si va Ah guarda là Ok Allora qua c'è un ponte Però mi sa che solo tu ci puoi arrivare dall'altra parte Qua invece c'è... Ah guarda E cosa lanci? Oh cazzo sbagliato Lanci un magnete rosso E dove lo attacco il magnete rosso? Eeeeeeeh No sappò Lancialo lì Aspetta Allora vado di là intanto No si distrugge là Eh vado di là Sopra il ghiaccio lo posso lanciare Qua non riesci Dove sei? Tu là? Si Io devo riuscire a salire là in cima vedi Prova Troppo alto Ma tanto scivola Eh no Ah ne puoi mettere più di uno però Ah ok ok vai Eh aspetta adesso Ora ce la fai dai Ok quella Bella Bella Ora dovresti salire là in alto Aspetta eh Di là non ce la fai a salire? No Ok allora vediamo eh Come vedo dove spara Ok ok Ah dai mi colpisci Ah là in cima devo arrivare ok Aspetta bro Che esplode tutto qua E E Ancora uno Ok Bella E minchia si è difficile E minchia che questo Aspetta Fammi rinunciare qualcuno Sì sì no intanto guarda Questo è esplodo Ti conviene saltare Io più di qua non posso fare Non posso fare nient'altro Ah dovrei aver finito credo Vai 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 su Spara con il cannone ancora Oh no Bello questo Ok bisogna andare all'altra campana Eh sì è l'ultima che rimasta Un gufo Un gufo E io come cazzo faccio a scendere da qua Ah guarda Non so dove mi porta però In teoria qua dobbiamo arrivare qua No ci portano in giro in teoria Devi saltare l'un gufo all'altro Ma io sto appeso a uno Mi sta facendo fare il giro della città Magari ci porta anche all'altra torre Ok rimaniamo su allora A meno che stringe adesso Ah direzione è quella giusta Ah guarda 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 Ah no è uno scivolo Cannato Io cannato Te continua a stare attaccato Dove ti porta Eh no mi fa tornare indietro C'erano dei magneti C'erano C'era una ruota con dei magneti Allora non è verso la ruota Eh ma è ghiacciata Ah la vedo Ghiacciata ok Aspetta aspetta che mi faccio riportare qua Ci sarà qualcosa qua sotto Di fisso Infatti Guarda da qua Arrivo arrivo Dove siete arrivo Eh no mi lascia Mi tiene qua Mi tiene Ok vediamo se mi porta verso di te Sì sì ti fa fare il giro di tutta la città Poi ti devi buttare quando sei lì vicino Oppure ti butti qua nel ghiaccio Sì sì io butto nel ghiaccio Ci metto di meno Eh sei già qua Oh Oh sorry Oh sorry Ah c'è qua vedi La ruota Io posso spingere questo Stai attaccato Fermati Aspetta No Cazzo E ora Ho morto No Raffai Ok Io mi respingo Quindi non No no Io con il blu Ok vai Vabbè prende al contrario Stai attaccato Ok fermo No Proprio indietro Proprio al contrario Eh però se tu ti respingi Eh io lì E allora Secondo me Posso farlo io spingendolo Eh ma io non posso Ah guarda che c'è il rosso Ah non l'avevo visto E come fai No devi andare sul blu Devi andare Ma io non mi attrago col blu Eh sì E devi star lì Io lo devo girare Scendito giù da quel coso Ah così Gira 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 Ok ancora un pelino Boom E adesso provo di salire anche te Eh prova prova a girare quello Poi vedere che cazzo succede Ok Ok Allora attaccati sul blu Che ti porto su Ok Vai su ancora Ok fermati Dai gira gira Piano piano No dall'altra parte bro È uguale Minipoli su ancora 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 Ok Vai C'è difficile Eh Ah no Dai io Vai Vai campana GG GG C'è 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 rispetto all'orologio Di cosa stiamo parlando L'orologio era Urco cane Ok c'è una Capsula del tempo Qua Qua Questa roba qua È una Funiglia Dove che Ok perfetto È una gondola È una È una È una Gondola È una bella la città che avevi fatta bene ma proprio in alto stia salendo su la torre ciappa alla discoteca perchè ah è la discoteca ah gli ho fottuto il cappello ho il cilindro dai dai vieni qua che c'è la spinta oh oh ah 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 Oh! Oh! Ok, niente! Scusami dai qui! Ahahah! Che parli di cosa stai? Questo è un sacerdote! Oh! 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 Scusami di un Moby Kick? C'è il sangue dentro però! Ahahah! Ehi! Come on! Che bello! Ah, non è ancora finito! E lui spogga sempre! Questo è incredibile! Scusami! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! a volte sembra gelida ok albici primo qualche luna adesso non so quando quando riuscirò a riprendere credo se proprio domani mi faccio il culo credo domani sera ma non lo so più probabili dopo domani vabbè tanto mi aspetti ormai l'abbiamo iniziato in due da solo non puoi a meno che c'è quattro mani poi fai giocare sandro io la linea impazzisce sto gioco no non gioca non gioca solo per divento competitivo va bene ragazzi allora siamo arrivati al termine della della live quanto abbiamo fatto stasera 3 ore 40 ma è già l'una 3 ore 40 ma scusa che ho iniziato alle nove e mezzo non ho iniziato alle 9 9 20 ore 40 minuti vabbè ci sta dai anche perché l'una domani lavoro domani una giornata parecchio impegnativa che tra lavoro e configurazione ci sarà da impazzire a casa mia quindi noi ci vediamo se va bene lunedì sera molto più probabile martedì martedì sera o martedì in giornata adesso vediamo un attimino cosa riusciamo a fare grazie a darvi grazie che rimasto con me grazie ai like perché follower non ce ne sono stati e un bacio a tutti quanti ragazzi a domani ciao alvin ciao buonanotte ciao a tutti ciao a tutti